All'indomani del tragico incidente stradale che ha colpito la famiglia Ciobanu, ci sono già delle iniziative di solidarietà per aiutare Emilian, l'unico superstite della famiglia. Alla fabbrica della scienza, al Tropicariun Park, facciamo lavorare tantissimi ragazzi, tantissimi giovani e abbiamo anche dato l'opportunità di lavorare di persone che hanno avuto dei problemi familiari o dei bisogni. Quindi sentire questa storia di Emilian è molto triste e io e il mio staff si siamo molto avvicinati a questa storia. Quindi ci farebbe molto piacere conoscere Emilian di persona, chiediamo di venire a farci visita per vedere le nostre attività e poi magari, chi lo sa, trovare un sistema per poterlo aiutare e perché lui ci possa aiutare con il suo lavoro. Non appena ha presa la notizia della tragedia che ha colpito la famiglia di Emilian, rimasto solo a 19 anni, Monica ha subito pensato a come poterlo aiutare, anche alla luce del fatto che lui stesso, pur andando ancora a scuola, ha detto di volersi trovare un lavoro per affrontare la vita senza i suoi genitori. Spesso capita che le persone si vincolano con il fatto del lavorare sabato o la domenica, ma la nostra attività è questa. Le nostre famiglie, i nostri bambini vengono sabato o la domenica e durante le festività natalizie o poi durante il periodo estivo a divertirsi con noi, a vedere i nostri animali, a fare i nostri esperimenti. Quindi benvenga se i ragazzi sono disponibili a venire a lavorare in questi periodi e noi li accogliamo molto volentieri. L'amministrazione comunale si è subito messa a disposizione del ragazzo, come dichiarato dal sindaco Zoggia. Il vice sindaco e i servizi sociali l'hanno già incontrato, per dargli il sostegno in questo momento estremamente delicato dal punto di vista psicologico, mentre dopo la pubblicazione del nostro servizio nel sito in molti hanno lasciato un messaggio di vicinanza. Che tragedia, sarebbe disumano non aiutarlo, scrive Rosa. E ancora, questo ragazzo va aiutato, si legge, non va lasciato solo. Il comune è presentissimo in queste cose, che ha psicologi, ha strutture, ha gli assistenti sociali e tutto, e la comunità rumena è anche abbastanza forte qui, quindi si faranno sicuramente carico. Qualsiasi cosa verrà proposta non abbiamo mai detto di no, nessuno ha esolo, quindi non è un problema. E mentre si attende il nulla osta per i funerali, la comunità rumena ha deciso di occuparsene. Lungo la Triestina, quella notte però, non ha perso la vita solo la famiglia Chobanu. Nell'altra auto c'era Yotika Piazer, figlia 29enne di origine indiana del noto dentista di Via Piave a Mestre, una ragazza che tutti ricordano per il suo sorriso e il buon umore. Grazie.